dai mazzieri tu ma nooo l'ho ucciso mademms ma chi è? ah tu e manuel chi è mademms? oh zitto un attimo oh zitto intanto un panino dai zitto un attimo sennò ti regalo i giudini panini armando! stai vincendo lui che bastardo armando ma stai vincendo lui e vabbè sono un'altra contro 2 3 contro 2 ma chi è quindi mademms? e che ragazzi ha fatto? mi sono sicuro di giocare ma va bene eh? cosa ha? si vabbè ma che se balla adesso? eh ti ucciso! eh io sto giocando una cuffia perchè mettiamo... si è vero perchè... eh beh vabbè perchè mi madre deve venire una cuffia che fa vincere a te ma perchè... ma sei stato tutto da piccolo ma ha sempre pushato su coglione ma ferro lo so io ok 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 è credito un اب nab non c'era comunque perché ci senti mano salta la c indonesa що ết però non c'è questi into 23 di vita ancora E' nabbo E' nabbo mandando shit ha spaccato il culo Perchè da 5 suose di spito 100 23 di vita Ma che cazzo ci ridete pure Ma che nabbo del cazzo Ma che cazzo è nabbo 1 contro 1 ce la faccio anch'io Eeeh non è vero 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 Vabbè